Benvenuti al nostro TG Sport. Cari amici di Telemolisse, ci auguriamo che veramente il Ferragosto sia trascorso in maniera serena per tutti quanti voi. Parliamo del campionato di Serie D dalla terza amichevole contro la primavera dell'Ascoli. Il tecnico del Campobasso Mosconi ha tratto buone indicazioni sulle quali lavorare in prospettiva. Alla fine abbiamo fatto anche il punto con il direttore sportivo. Pino De Filippis, questo Campobasso che ha archiviato il ritiro dal tuo punto di vista, a che livello è sotto il profilo fisico e tattico? Tutto il profilo fisico hanno fatto dei carichi di lavoro importanti, quindi si vede che la squadra deve smaltire questi carichi di lavoro. Adesso abbiamo questi tre giorni di riposo, poi riprenderemo mercoledì. Inizierà la settimana tipo perché ci avviciniamo alla partita di Coppa Italia con il Termoli, il 27. La rosa per una piccolissima percentuale ancora da ritoccare, subiudice? Sì, adesso dobbiamo risolvere il problema Ricciardi, vediamo se lui riesce a sistemare le cose a casa, che ha dei problemi personali importanti e nel stesso tempo ci stiamo guardando anche in giro e poi secondo me dobbiamo migliorare un pochettino a livello di under perché numericamente siamo un po' pochi e dobbiamo aggiustare qualcosina perché adesso li abbiamo valutati in queste tre settimane e secondo me qualcosina bisogna aggiustare. Ecco, c'è stato uno slittamento che era nell'area sia della Coppa Italia che del campionato, quindi si inizia il 27 agosto la Coppa, il 10 il campionato. Non credo che per voi possa essere un problema, mentre i gironi si sapranno relativamente tardi, probabilmente a fine agosto. Questo può essere un problema? Ma non è un problema, a fine agosto il 30 e il 31 usciranno i gironi, però le molisane faranno sempre il giorno F, da quello che penso io, quindi secondo me non cambierà niente. Il girone è difficile perché a differenza dell'anno scorso dove secondo me c'erano poche squadre all'altezza della situazione, quest'anno la vedo molto più dura, però noi ci faremo trovare pronti perché secondo me anche noi abbiamo un organico importante. Un livellamento quindi verso l'alto rispetto all'anno scorso secondo te? Sì, senz'altro proprio, un livellamento è cambiato secondo me di parecchio, ci sono un sacco di squadre, 7-8 squadre che sono tutte attrezzate per fare molto bene. L'anno scorso alla fine il secondo ho fatto il Senigallia, che era una squadra che era delle eccellenze, che praticamente non ha cambiato quasi niente, quindi quest'anno anche loro saranno una squadra tosta, però noi abbiamo cambiato tantissimo, dobbiamo lavorare, dobbiamo smaltire questi carichi di lavoro, dobbiamo apprendere la filosofia del mister, però penso che ci leveremo delle soddisfazioni. In sintesi, in serie di Gironeffe, perché ormai è quello abituale da anni delle Molisane, per primeggiare cosa ci vuole? Per primeggiare ci vuole la determinazione che stanno usando questi ragazzi nel fatto di ritiro e poi nei momenti di difficoltà bisogna rimanere sempre uniti, compatti, dalla società ai tifosi perché in momenti difficili si supera con l'unione di tutti. Se incominciamo ai primi momenti di difficoltà, a chi va a destra e a chi va a sinistra, secondo me non ci aiuta per fare il campionato che vogliamo fare. Restando in quarta serie, l'FC Matese nel secondo test pre-campionato sul campo del Venafro ha avuto modo di mettere benzina nelle gambe e di cementare il gruppo. Alex Gallerdini, nuovo difensore dell'FC Matese, dunque vieni dal Pomezia, cambi il Girone, ma credo le motivazioni sempre le stesse. Credo che conoscevi già questa società che negli ultimi anni comunque si è affermata in questo raggruppamento F. Sì, la conoscevo per averci giocato contro e l'anno scorso l'avevo anche incontrata perché fino a dicembre sono stato a Roma City e stavo nello stesso giro nell'LF e mi ha sempre impressionato per l'importanza, comunque ha fatto veramente un gran campionato l'anno scorso. Sì, Roma City è una società che conosciamo, puoi spiegarci tu forse meglio la storia, era partita comunque con grosse ambizioni, poi forse si sono complicate le cose in corso d'opera. Sì, tante ambizioni, società, società modello, qualche persona dentro un po' così, però quest'anno con la fusione che hanno fatto con la Vista Artena riparteciperanno al campionato di Serie D e credo che faranno un gran campionato per la squadra che hanno fatto. Tu come mai sei andato via? Motivi? Sì, no, motivi strettamente personali, ho cambiato il Girone e sono stato nel G a Pomezia. Sì, ora c'è da pensare a questo Matese, pochi giorni di lavoro, anche se siete già alla seconda amichevole, siete proiettati anche alla prima di Coppa. Sì, abbiamo lavorato bene dal 31 luglio, però stiamo lavorando bene, è un bel gruppo, ci divertiamo e saremo pronti per la prima in Coppa. L'automobilismo Giuseppe Testa e la turbocar ancora insieme, il pilota di Cerce Maggiore correrà con la Skoda Fabia R5, il rally Piancavallo il prossimo 3 settembre, il rally di Como del 24 settembre e quello di Bassano del 14 ottobre. Tutti e tre gli appuntamenti sono validi per il campionato italiano rally asfalto, a questi va aggiunto il rally del Lazio del 29 ottobre finale della Coppa Italia di zona. Il Molisano sarà legato al team di Campoli a Pennino anche per la stagione sportiva 2024, nella quale prenderà parte al campionato italiano rally e alla Coppa Italia al volante della nuova Citroen C3 Rally 2 Upgrade 2024. Torniamo a parlare di calcio, in eccellenza il Boiano, dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso, proverà a ripetersi una delle nuove figure all'interno dello staff tecnico e quella del preparatore dei portieri. Andrea Tammaro, nuovo preparatore dei portieri del Boiano, insomma è cominciata per te questa nuova esperienza, dopo tanti anni nel Futsal hai deciso di fare questo passaggio al calcio a 11. Sì, è stato anche facile fare questo cambiamento dopo la telefonata di mister Savino, è stato facile accettare questo ambiente che ho alle spalle, mi hanno fatto sentire subito a casa e iniziare questo nuovo cammino in questa società per me è stato un buon punto di partenza, sotto questo ruolo. Assolutamente, insomma magari dopo tanti anni nel calcio a 5 avevi bisogno anche di nuovi stimoli. Sì, nuovi stimoli, poi la fortuna è anche quella di aver trovato un buon gruppo di portieri da Borrega, Pillarella e quelli sono bei stimoli secondo me che ti danno l'opportunità di crescere ulteriormente in questo settore. Arrivi in una società che ha tanta fame, insomma l'anno scorso ha chiuso un campionato in crescendo, ha ridosso la zona playoff, c'è stata l'esperienza della vittoria del campionato di Uniones, sicuramente è una società che sa lavorare bene con i profili del posto ma anche con i ragazzi. Sì, infatti è stato bello vedere anche il quantitativo di ragazzi del posto, infatti è una squadra composta penso al 100%, soprattutto da ragazzi di Boiano e vedere quanto ci tengono, soprattutto per quello che è stato l'anno scorso, ripartire da quello che è stato l'anno scorso, è bello vedere come l'affrontano e di come hanno anche consapevolezza di quello che rappresentano e che gli toccherà fare quest'anno. Sicuramente c'è potenziale per fare bene e poi c'è questa bellissima struttura e sicuramente il pubblico di Boiano saprà darvi la giusta spinta nel corso dell'anno. Sì, infatti è una speranza di ritornare con uno stadio pieno anche perché è bello, ti alleni anche in uno stadio, anche quello è stato un di più per me accettare questa chiamata perché vedete è bellissimo e ti dà l'opportunità di avere un grande pubblico in casa e speriamo che quest'anno ci sarà. Il rapporto con mister Savino e Anni Roberto, scommetto che insomma conoscendo Savino vi siete evoluti bene a primo impatto. Sì, è iniziato con i corsi che abbiamo fatto in FGC, in federazione, come mi ha chiamato ho detto guarda Savino mi devi dare solo il tempo di ritornare a Campobasso e ci vediamo infatti non c'è stato modo nemmeno di dire sì, no, subito, è stato amore a prima vista tutto questo punto di vista, dai, è un bravo ragazzo, è un mister capace e competente spero che crescerò tanto insieme anche a lui. Sempre per l'eccellenza vacanze finite per l'Isernia che domani comincerà la preparazione a Cerro al Volturno sotto l'occhio attento di mister Farrocco e del suo staff, la prima uscita amichevole dei Bianco Celesti sarà quella del 19 agosto quando la squadra sarà impegnata nel secondo Memorial Luigi Mazzocco, storico presidente dell'Isernia e uomo sempre vicino al mondo dello sport, oltre che fondatore della grafica Isernina. In campo, proprio a Cerro al Volturno, a sfidare Cascio e compagni, ci sarà la Isernia di Fabio Di Rienzo, pronta ad essere protagonista nel torneo di promozione. Il Ripa Limosani ha cominciato a lavorare in vista dell'esordio nella nuova categoria, la società ha lavorato alacremente e curato tutto nei minimi dettagli per essere tra le protagoniste del torneo. Toni Cornacchione, direttore generale del Ripa Limosani, ma come dicevamo poc'anzi, queste cariche poi sono solo sulla carta perché Ripa è una famiglia. Dunque, pronti per questa nuova avventura? C'è comunque una responsabilità da parte vostra perché torna l'eccellenza a Ripa dopo tantissimi anni. Beh, Luigi, hai detto, guarda c'è paura, timore, ansia, ma allo stesso tempo c'è tanta voglia, tanta voglia di ricalcare questo palcoscenico che è quello dell'eccellenza, per l'appunto il massimo campionato regionale. Ripa ci deve stare perché lo ha meritato e deve cercare di restarci il più a lungo possibile. Assolutamente. Dunque, devo dire che sto vedendo anche dei lavori alla struttura, che comunque è un qualcosa di importante anche per la crescita comunque della società. Allora, Luigi, non c'è futuro se non c'è struttura. In un paese poi, soprattutto, noi contiamo proprio su questo, di pianificare da quest'anno in poi, grazie a questo alle amministrazioni che si sono date da fare, a farci avere per l'appunto la struttura che sarà, come avete potuto vedere, tribuna sia da un lato sia da un altro. Le quattro torri faro, insomma, diventerà un impianto di tutto rispetto. La copertura per l'appunto sulla tribuna, il palazzetto che sta per nascere. Insomma, iniziamo ad essere una società che ha struttura, ci struttureremo ancora di più per l'appunto come organigramma per poter recitare nel campionato di eccellenza un ruolo da protagonisti e cercando di rimanerci con umiltà perché, per l'appunto, l'hai detto tu prima, siamo una neopromossa, affrontiamo un campionato dopo 17 anni per l'appunto, il campionato di eccellenza e dobbiamo essere umili e capire che se non ci mettiamo sacrificio e impegno non andiamo da nessuna parte. Nulla ci è dovuto, nulla ci daranno gli altri, ce lo dobbiamo conquistare. Un'ultima battuta, insomma, gioco forza, poi passano le stagioni, si cambia un pochino la rosa, ma questa è stata un'evoluzione alla quale siete stati anche un po' costretti visto che avete avuto alcune persone che non hanno voluto proseguire il percorso, però comunque state lavorando bene. Luigi, in un paese è importante l'aspetto sociale. Noi, i ragazzi di Ripa, che hanno voglia di giocare, è casa loro, quindi non chiuderemo mai le porte ai ragazzi di Ripa-Limosani. Ovviamente per affrontare un campionato di eccellenza e salvare la categoria c'è bisogno di un tasso tecnico, di giocatori che abbiano la personalità giusta e credo che le abbiamo individuate. Sono quelle persone, quei giocatori che ti fanno crescere e creano quel qualcosa in più per poter mantenere la categoria e allo stesso tempo un ragazzo che si avvicina da noi e trova un giocatore che ha più esperienza non può solo che migliorare. Il sesto campano, squadra più longeva dell'eccellenza, infatti ha disputato sempre l'eccellenza, non è mai retrocessa. Ebbene, il sesto campano vuole continuare a dire la sua. Per farlo si affiderà ai senatori come l'attaccante Antonio Di Gregorio. Noi lo abbiamo avvicinato. Antonio Di Gregorio, ancora attaccante del sesto campano, partirei proprio da questo sintetico di Capriati al Volturno. Hai cinque minuti, forse neanche da casa tua, tu vivi a Fonte Greca e tanti ricordi che ti legano a questa struttura. Sei stato un tesserato dell'Aurora Alto Casertano, protagonista con il Macchia, che ha vinto il campionato d'eccellenza nella stagione 2016-2017. Siete partiti con la preparazione per i problemi che ci sono a sesto campano al Ponte Nuovo. Ci siamo allenati bene, mi sono allenato bene, siamo solo al terzo giorno, però vedo una buona squadra come sempre. Sì, dunque, i primi incontri anche per quel che riguarda la Coppa. È stato inserito nell'organigramma societario il nuovo direttore sportivo. Voi avete perso due petine fondamentali, due perni di difesa come Di Baia e Scassera. Cosa sta cambiando? Beh, sta cambiando che la squadra è ringiovanita tanto. Cioè, con l'uscita di Di Baia e Scassera, per noi è una grossa perdita, però li stiamo subito rimpiazzando. Il direttore ha preso bei under. Siamo molto giovani, infatti io sono uno dei più grandi insieme a Conte, però sono sicuro che faremo un buon campionato e niente. Prima partita che dovreste, insomma, salvo cambiamenti, mutamenti dell'ultimo momento disputare qui in questa struttura? Beh, sicuramente secondo me ne avremo ancora, ce ne avremo per un bel po' di restare qua, perché a sesto i lavori si sono appena iniziati. Per me comunque va bene giocare qui, comunque è un bel campo, è un sintetico, cosa vogliamo di più. Sì, dunque è un importante, riconfermo la tua da parte di questa società, conosci molto bene l'ambiente, è stato tutto semplice, dicci che sesto campano dobbiamo aspettarci per questa stagione? Beh, io è il terzo anno che sto qua, per me sto molto bene, sono stato bene per questo quest'anno, come ho riparlato col Presidente, subito ho accettato di risposare la causa sesto. Trovremmo una squadra molto giovane, però ripeto, sono sicuro che faremo bene, poi non si mai, ancora non conosco le altre cose, ho visto qualcuna, l'Aurora, che sicuramente sta attrezzando una buona squadra, l'Isernia sta costruendo piano piano, non so cosa faranno. Noi di sicuro non partiamo per vincere, però cerchiamo di stare lì su, le parti alti, play-off magari, però ci proveremo. Basket di Serie A1 si avvicina all'inizio della preparazione per la molisana Magnolia, che appunto lunedì prossimo, 21 agosto, comincerà a lavorare agli ordini di coach Sabatelli e del suo staff, settimane intense di lavoro intervallate da diversi amichevoli per arrivare all'inizio della stagione nelle migliori condizioni possibili, l'obiettivo sarà quello di confermarsi tra le grandi della Serie A1. Calcio a 5, il Cusso Molise si appresta a vivere la prima esperienza in A2 Elite della sua storia, ne abbiamo parlato con Renzo Di Lizio, che è venuto a trovarci in redazione. Renzo Di Lizio, confermato al Cusso Molise, la squadra si appresta ad affrontare per la prima volta il cambiamento di Serie A2 Elite, che stagione sarà a tuo avviso? Sicuramente sarà una stagione difficile, la prima volta in A2 Elite per noi e ci prepariamo ad affrontare una stagione sicuramente di alto livello. Una nuova categoria, soltanto due gironi, quindi trasferte più lunghe come chilometri da percorrere, ma anche la qualità del raggruppamento sarà elevata? Sì, sicuramente, la qualità del campionato si alzerà, sicuramente, ci saranno giocatori di un altro livello, le trasferte saranno più lunghe e tutto il contesto che sarà più difficile. Una squadra, la vostra, che negli anni ha saputo ritagliarsi un posto importante in ambito nazionale, lottando sempre per i play-off, quest'anno quale potrà essere l'obiettivo? Anzitutto l'obiettivo è sempre la salvezza, poi dipende dal gruppo squadra, dalla società nel proseguo del campionato cosa si vorrà fare. Rispetto al recente passato, Rosa va in gran parte nuova, quindi gruppo da amalgamare nel corso della preparazione, questo può essere sicuramente uno stimolo in più per fare bene? Sì, sicuramente, siamo un nuovo gruppo, sono stati fatti nuovi acquisti, abbiamo perso comunque pedine importanti che da anni giocano, indossano questa maglia e speriamo comunque di riuscire a tornare comunque a buoni livelli anche con i nuovi giocatori. Spesso e volentieri il pubblico del Palaunimol è stata la vostra arma in più, costruire quindi in casa l'obiettivo anche il prossimo anno? Sì, sicuramente. Le partite in casa, specialmente quest'anno, saranno importantissime, ci sarà bisogno del pubblico come nello scorso anno che ci ha dato comunque una grossa mano. In trasferta non sarà mai facile sia per affrontare comunque i lunghi chilometri e le grandi società comunque che affronteremo in questo campionato. Dal punto di vista personale, ormai sei un punto fermo del Cusso Molise, da tanti anni veste questa maglia, quale sarà l'obiettivo personale? Sicuramente l'obiettivo personale sarà quello di riconfermarmi come negli scorsi anni e magari riuscire a fare sempre un qualcosa in più. È tutto anche per questa edizione del 16 d'agosto del nostro TG Sport. A chi sta facendo spuntini, picnic, naturalmente buona continuazione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.